Continuano le indagini circa la pulizia e la sicurezza sanitaria dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, in seguito al primo episodio verificatosi lo scorso novembre della presenza di formiche sul corpo di una paziente successivamente deceduta all'ospedale del mare a causa del grave stato di salute in cui versava e a quelli poi più recenti che hanno visto la pubblicazione di video con la presenza di formiche sul corpo di un altro paziente e su di un lavandino del nosocomio. Quest'oggi sono stati gli uomini del nucleo antisofisticazioni dell'arma dei carabinieri a recarsi nella struttura per ulteriori accertamenti. I NAS, secondo quanto si apprende dalle primissime indiscrezioni, avrebbero eseguito verifiche e confronti inerenti agli interventi eseguiti finora dall'ASL Napoli 1 su cui ricade la competenza del San Giovanni Bosco. Lo stesso direttore dell'ASL, Mario Forlenza, dopo le bonifiche, aveva annunciato l'istituzione di una commissione interna addetta alle indagini sul caso Formiche. Lo stesso Forlenza dovrebbe poi essere ascoltato, in qualità di teste, dagli inquirenti della Procura di Napoli in merito all'inchiesta circa la situazione nel nosocomio. Negli ultimi giorni alcuni nuovi video, trasmessi in televisione, avevano mostrato la faticenza di alcuni mobili presenti nei reparti e di dicembre invece la chiusura di alcuni luoghi dell'ospedale per la folta presenza di questi insetti che aveva impedito lo svolgimento della quotidiana routine ospedaliera.